secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie alex accendi balloncino alex accendi fulmine ok davanti riegi schianto aria aperta avesse soldi grazie a tutti a presto a presto a presto a presto FBI, open up! I don't know. Grazie a tutti. Basta, lo vado a togli, lo vado a scassare il tuo cazzo, basta, tutto cazzo, basta, non ti sopporto più, non ti sopporta più, madonna mia, madonna, ma non è quello il senso di farlo, cioè, non dà senso farlo ogni due secondi. Mamma mia, non dà senso farlo ogni due secondi, porco Dio, il senso è farlo ogni tanto, non farlo ogni due secondi, non ha senso così, porco Dio, mannaggia la puttana, ma non riesco a fare niente, ma ti ho scassato cazzo, questo tengo fama, per cortesia, e che lato, a maronna. Mamma mia. Porco Dio, vai giù. Oddio, quando si era rotto il letto a desio, quando si era rotto il letto a desio, cioè, Gesù Cristo, che mottra donna, sta cazzo, ma è, mh, mh, mh. Dicci il, ma è, mh, piove, Gesù Cristo. La pentola si muove? Che senso? Oh! Ma come si muove la pentola, voglio? Oh, devi stare qua! No! Ma come? Ma come su? Sì, tu, lo so io non ti faccio, non ti faccio, con la barucca che c'è un giro. Genna. Ma t'ho, se ti parlo, non vacci, non vacci, non vacci, non vacci. Genna, rò. Ehi. Non c'è una sinistra. Ehi? Non c'è tutto sinistra. ma questo non lo so stiamo facendo disco ma che fai ma che tu cazzo ma che fai ma i documenti del piacere vai giù alexa accendi schiuma alexa 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 Gesù Cristo ha girato un ruolo coppio discord Non ti metti più Mannaggia Gesù Cristo Non ti metti più ruolo coppio discord Non me ne fotte proprio Non ti metti più Ah! Porco Dia! Mazzà, porca caccia troya E bunker Ah! 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 Ah, 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 ah.